cade da circa 4 metri di altezza vinendo a terra avete 10 minuti di tempo dall'io via che non è adesso e attenzione perchè si scivola non vi fate male ah fermi 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 via aiuto 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 correte aiuto il gruppo accionato sta vedendo che direi potete e per te l'altro aiuto ok 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 la parola la 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 a a a a a a a a a ok 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 no sì lì è un'altra casa sì posso vedere ok ok che è l'appunto l'ha la roma l'ha la roma venga la roma ora il la roma vado a 4 per ok 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 a a a marina non ho mai 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 un po' di tempo la coperta la coperta la coperta la coperta la coperta la coperta per quanto riguarda la quattro metri da cazzo la quattro metri che per attraverso la quattro a 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 e a 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 no ok 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 sono il ai e e la notte l'apopera 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 i l'apopera l'apopera l'amorata che è il problema l'amorata per me non mi è che l'amorata 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 arco arcofano arcofano Carmelina, come stai? Fammi un segno. Carmelina. E dove si muove? Mi avevo fatto un po' di anni con l'anno e l'ho messo un po'. Ma quello che sta male è un po' alto. Sì, ci saranno loro, non vi preoccupate. Siete qua. Siete qua. Sero al sole, Carmelina. Arriba la pulanta. Siete arrivando. Sì, non sapevo che stessi. Ah, ce l'ho messo sopra, gliel'hanno messo la coperta. No. No. E finita la fumazione? No, 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 no.